Tutti conoscete questo duo comico, Ale e Franz, noi ci spostiamo per lasciare libero lo schermo perché Ale e Franz sono stati amici di itinerari a fin dalla nascita di questa nostra compagnia, abbiamo tutti seguito la loro straordinaria carriera dal teatro, poi alla tv, fino al cinema negli ultimi anni e anche negli ultimi anni dicevo l'impegno civile della loro onlus, Ale e Franz in France onlus che sostiene molti progetti, ma io voglio farlo vedere, eccolo qui, è con noi, Francesco Franz Villa, ciao Franz, grazie di essere con noi. Ciao. Dove sei adesso? Ciao Fabri, grazie molto a tutti. Dove ti trovi? Dove ti trovi? Sono in Sardegna, sono in Sardegna, quindi saluto il comune di Cagliari. Ah, il comune di Cagliari, ma tu lo sei a Cagliari, sei ad Alghero sempre, ti vedo da Facebook. No, però, vabbè, la Sardegna, la Sardegna, la Sardegna. Lì ad Alghero eravamo stati con Stupefatto, abbiamo fatto sei repliche con il sindaco Mario Bruno, non so se l'hai mai conosciuto, so che sei un frequentatore di Alghero. Sì, certo che lo conosco. Beh, intanto grazie di essere qui, come ci sei sempre stato nelle grandi occasioni, tu e Ale, anche quando abbiamo fondato Radio Itineraria durante il lockdown, siete stati primi a sostenerci, ad aiutarci. Oh, Franz, 30 anni di carriera, 30 anni di sodalizio con Ale, con quella complicità che è proprio la chiave della vostra comicità, perché, dai, è chiaro, tra di voi non ci sono il comico e la spalla, sono due artisti che si rimpallano i ruoli e si sostengono uno con l'altro. Franz, quanto conta, dicelo, la vostra grande amicizia per questa grande carriera di successo, tu e Ale. Trent'anni sono tanti, quindi citandoti sono stupefatto anch'io a pensarci. E ci credo. Però la amicizia conta, anche perché dico sempre che nessuno ci ha obbligato a percorrere questa strada insieme, quindi se abbiamo deciso di farlo è perché di base c'è un'intesa e c'è una stima reciproca senza la quale non sarebbe possibile costruire un percorso così importante. Ma dire la verità, trent'anni non avete mai litigato, non avete mai pensato di fare Ale e Ale e Franz e Franz da soli, no? In quattro. No, scusa Franz, visto che siamo così amici anche noi da 29 anni. L'anno prossimo facciamo il trio, Ale, Franz e Fabrizio De Giovanni di Itineraria, ti piace il nome? A me tantissimo, c'è sempre voglia di... Beh, poi tu ci conosci proprio dagli inizi perché abbiamo proprio iniziato, grazie a Itineraria e alle belle iniziative che organizzavate già in quegli anni, quindi molto legate a voi. Mi piace poi tantissimo l'importanza del tragitto che state compiendo. Io vi ho visto, vi ho seguito al piccolo teatro con stupefatto e devo dire che sentirtelo raccontare, citare mi ha emozionato come essere lì a vederlo. Penso che il teatro sia un posto magico dove si debbano raccontare delle storie, ma se queste storie, come in questo caso, non sono storie di fantasia ma ti servono poi per approcciarti meglio alla realtà, diventa ancora più magico. Io penso che molti ragazzi finiscano in percorsi sbagliati anche per inesperienza, per superficialità, per disattenzione. E purtroppo la vita è una sola e quell'età viene una volta sola, è anche l'età dell'inconsapevolezza sotto certi aspetti. Quindi il lavoro che fate voi, che è quello di spiegare i pericoli a cui si va incontro partendo magari dalla sottovalutazione semplicemente di una canna come citavate voi, penso sia un lavoro meraviglioso. Quindi complimenti davvero. Grazie Franz. Quando ti ho conosciuto 29 anni fa appunto facevi l'educatore tuo e mi ricordo forse a Ponte Lambro, qui a Milano, sostenevi i ragazzi in difficoltà, li aiutavi. Adesso dopo 30 anni avete uno a Onlus che ne aiuta tanti di persone. Quindi c'è un fil rouge che collega il Franz giovane con il Franz di successo di oggi. Non avete abbandonato le vostre origini? No, anzi, devo dire che è uno dei riflessi del nostro lavoro, questa popolarità può diventare anche uno strumento per raccogliere, per mettere piccole gocce in un oceano, però sono gocce che vanno ad aiutare direttamente persone che hanno bisogno. Noi seguiamo in particolare famiglie che hanno ragazze, bambini autistici, cercando di dare un sollievo concreto con iniziative di supporto alle esigenze del bambino e alle esigenze anche dei genitori. Quindi, ripeto, facciamo davvero poco, però penso che se ognuno si sforzi di fare quello che può fare, come state facendo anche voi, il mondo possa diventare migliore. Sicuramente. Grazie Franz per il tuo tempo. Adesso hai parlato di autismo. Grazie. Noi siamo grandi amici di Nico Acampora, di Pizzaut, l'ex assessore alla cultura di Cernusco sul Naviglio, e lui sta facendo veramente un grande progetto. Io vorrei vedervi anche insieme, alle France & Friends, insieme a Pizzaut, che ieri erano l'altro ieri all'autodromo di Monza a fare le pizze, dopo averle fatte per il Papa piuttosto che per il Presidente della Repubblica. Magari creiamo questo collegamento in modo che possiate fare cose belle insieme. Grazie Franz. Saluta tanto Ale, un abbraccio grande, grazie di essere stato con noi. Vi abbraccio anch'io e buon lavoro.